Il prete. Quando ero piccola il mondo era molto più innocente ed io non avevo idea di come nascessero i bambini. A scuola io e gli altri bambini parlavamo sempre di come nascono i bambini ma nessuno era davvero sicuro di come succedesse. Tutti eravamo d'accordo sul fatto che i bambini uscivano dalla pancia di una mamma però nessuno di noi poteva spiegare come facessero i bambini ad entrare nella pancia. Alcuni bambini suggerivano che forse la mamma li mangiava e poi crescevano nella pancia. Infatti secondo questa teoria molte cose possono crescere nella pancia come per esempio le angurie se ne mangi i semi. Non so se questa era la spiegazione per i bambini però da allora in poi sono stata bene attenta a togliere tutti i semi dall'anguria prima di mangiarla. Avevo anche chiesto a mio padre di darmi una spiegazione ma lui mi aveva raccontato una storia senza senso sulle api ed i fiori ed io non ci avevo capito un cavolo. Quando gli avevo detto che le cose che diceva non avevano senso e che i bambini non possono nascere dalle api mi aveva mandato a chiedere a mia mamma. Mia madre mi disse che per avere i bambini una donna doveva avere un marito. Non capivo perché una donna senza marito non potesse avere i bambini nella pancia ma mia madre non ha saputo spiegarmelo. Il giorno dopo a scuola ho dato l'informazione ai miei compagni e tutti insieme abbiamo cominciato a ragionarci. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che quando una donna si sposa succede qualcosa succede qualcosa. Infatti se solo una donna sposata può avere figli allora succede qualcosa alla donna nel momento in cui si sposa che le fa entrare il bambino nella pancia. Tutti eravamo d'accordo che fosse il prete. Non poteva esserci nessun'altra logica spiegazione. Arrivamo alla conclusione che il prete metteva il bambino nella pancia della donna durante il matrimonio. A questo punto dovevamo andare a dei matrimoni per vedere da vicino cosa faceva il prete. Alla fine di giugno si sposava mia cugina ed io convinsi i miei genitori ad invitare tre miei cari amici e compagni di classe. Quando siamo arrivati in chiesa siamo corsi a sederci davanti proprio di fronte al prete. Mentre il prete sposava mia cugina e suo marito noi guardavamo attenti per beccare il prete con le mani nel sacco. Ad un certo punto la sposa si è messa a piangere ed il prete le ha messo una mano sulla spalla. Ah ah urlai ecco che le mette il bambino nella pancia. Tutti nella chiesa rimasero in silenzio e mia madre diventò tutta rossa in faccia. Gli altri bambini balzarono in piedi e cominciarono a puntare il dito contro il prete e a gridare battendo i piedi per terra. Le ha messo il bambino nella pancia le ha messo il bambino nella pancia gridavano in coro. Mio padre e altri due uomini ci presero in braccio e ci portarono fuori. Mia madre non mi parlò per una settimana ed io feci la massima attenzione a non toccare mai un prete almeno fino a che non imparai come nascono i bambini.